cari amiche ed amici vediamo se tutto è a posto perché l'ultima volta che mi sono filmato con la web camera che ciò dal 99 ho avuto dei problemi perché avevo impostato male il microfono adesso vediamo un po come viene sta storia sto aggiustando il cellulare di mia zia che è venuta a fare le vacanze in casa mia e questo qua che è più piccolo del mio galaxy young 53 60 io non guardo quasi mai in favore della camera guarda sempre in favore del video allora come vedete il mio è un galaxy young 53 60 con tre pollici di schermo il cellulare di mia zia non so che cosa sia però sembra che a 2,8 di schermo a 2 gigabit di memoria interna però a una camera che è uguale anzi è il peggiore perché c'è un'opacità impressionante ecco non so se si può apprezzare forse c'è più contrasto però ecco questo cellulare di mia zia in condizioni di poca illuminazione e peggio del mio condizioni di molta illuminazione sembra meglio anche lo schermo forse perché ci avrà uno schermo 800 x 600 non so sembra più intensa l'immagine più oscura perché con più pesantezza vabbè comunque non vi faccio questo video per fare una recensione di cellulari perché altrimenti vi parlerei di questa vecchia gloria lg kp 215 chi non ce l'ha avuto ho fatto dei video primi video che ho caricato anche se ci avevo la filmatrice verio il larga vc che se c'erano questa filmatrice all'inizio ho fatto dei video con questo cellulare che l'audio si ascolta pessimo i primi video dei miei canali del mio canale santo cian e con un cellulare che gli avevo regalato a mia madre che poi lei ha regalato a qualcuno che non se lo meritava il samsung 21 21 con questo invece non ho mai potuto fare dei video in questa chiavica di cellulare l'erickson 118 d comunque no bando alle ciance volevo farvi i miei migliori auguri per un buon natale felice natale perché spero che questo natale 2014 porti tanta allegria gioia e serenità a tutti voi che ne avete di sicuro bisogno anch'io ne ho bisogno infatti in qualche mio video precedente ho parlato delle vacanze di natale del regalo di natale e vi ho detto che se volevate farmi un regalo di natale che mi dia tanta soddisfazione dovevate non darmi del denaro queste cose qua ma guardare tutti i miei video quindi io vi invito a care amiche ed amici che mi seguite in questa vigilia di natale che io faccio questo video vi pregherei di guardare tutti i miei video perché sarebbe il più bel regalo di natale che mi fate certo sono 400 e 50 e passa e rotti di video quindi non vi chiedo di guardarli tutti oggi magari cercate per tema perché ne ho fatti molti 400 e passa di video 456 460 non si possono vedere tutti in un giorno lo so guardate almeno quelli che sono di ultima produzione oppure guardateli per argomento o quelli che nella lista vi risulteranno più accattivati e poi fate un commentario ad ogni video che guardate perché in questo modo io guarderò la stessa quantità di video che voi avrete guardato e quindi una mano lava l'altra perché in questo modo più guardano i miei video più si raggiunge una una un limite si supera il limite nel quale youtube si deve già pagare dei soldi e a me mi verrebbero bene magari non mi comprerò regalo di natale quest'anno questo natale adesso approfitterò di una liquidazione perché tanto non è che ti danno molto 100 dollari e mi comprerò magari il regalo di natale a gennaio a febbraio però ecco se tutti voi vi iniziate a guardare dei miei video io poi farò lo stesso nella stessa quantità che avete fatto voi quindi se guardate due o tre video io non guarderò 400 video vostri se avete guardato tutti i miei 400 video inizio a guardare ogni giorno qualche video per raggiungere 400 video commentate io commenterò i vostri video iscrivetevi e io mi iscriverò al vostro canale vi dicevo sono disoccupato e come avrete visto nella mia nel mio profilo da 12 anni che volevo essere uno scrittore ma si è sempre demoralizzato il fatto che è difficile trovare un editore quindi vorrei vivere da youtube perché io ho la partnership di youtube però ancora non ho iniziato a guadambiare niente vedete anche se io riporto così io mi annoto vedete in uno due questo più grande 3 anche macchiato perché uso adesso una penna verde che così la finisco che un po rotta 33 cartelle 4 cioè tre e mezza vedete data 29 11 incremento 268 visioni 72 mila 357 quel giorno il 29 11 ho avuto visioni 270 ho avuto visione il 29 11 72 mila 357 visioni del canale e l'incremento con rispetto alla data anteriore è stata di 268 l'1 12 le visioni erano già 72 mila 614 e con rispetto al 29 un aumento di 257 visioni del canale quindi dal 46 dal 46 che ho avuto 36 mila 37 36 mila 574 visioni il 46 36 mila 576 a il 23 12 78 mila 78 mila 576 ho aumentato o raddoppiato più o meno forse più che meno le visioni del canale quindi nel giro di sei mesi ho raddoppiato le visioni del canale però dovrei avere 100 mila visioni a video per iniziare a raccogliere 100 dollari da ogni video non so per iscritti quanto ti paghino se sei un milione di iscritti ti danno 100 dollari se hai 100 mila visioni del canale non so se ti danno qualcosa però il fatto che ciò dei video che li hanno visti 20 30 volte 10 20 volte e di video che li hanno visti i 20 mila morti uno che più o meno in quella città quindi vi pregherei a tutti e tutti voi perché io ho fatto il possibile per diffondere nelle reti sociali il mio video di guardare tutti i miei video perché non funziona molto così a diffondere nelle reti sociali video io adesso approfitto che sto registrando con la camera perché ha un formato piccolino poi non gli voglio dare formato vediamo un po se qua risulta se risulta quanto va pesando il il mio video 66,67 68 si non pesa molto e sto da 11 minuti sono 68 megabit quindi significa megabyte perché megabit del model del megabyte quindi significa ecco se fosse stato con il mio cellulare galaxy young 53 60 già starei sull'ordine dei 200 megabyte invece registrando con questa web camera schifossissima forse di meno di 2 megabyte che la posso usare perché ciò picasa 3 perché altrimenti non non ci sono più le condizioni per poterlo usare col suo software e allora e anche con il window movi maker si può utilizzare però io preferisco di cassa perché gli da un formato più piccolo perché il formato di window più pesante allora io vedo che per fare 200 megabit magari posso fare più di un'ora quindi impiego poi un editore tipo quello che usa ultimamente vsdc free video editor che gli toglie spesso soltanto che siccome che un video che viene molto di bassa risoluzione di bassa lega come dire beh farò ancora un 10 minuti di video magari augurando a tutti e tutti voi un felice natale buone feste che questa vigilia di questa notte sia senza incidenti non eccedete nell'alcol non sparate i botti non sparate pistole e fucili passatela bene in famiglia attenzione quando uscite dai locali perché magari uno beve con moderazione ma ci sono i pirati della strada ci sono i criminali aumentata la criminalità è impossibile quando tu esci per la strada a luna del mattino alle 3 passano guidando dei pirati della strada che ti faciliano vivo certo ti uccidono quindi ti faciliano vivo e quindi mi raccomando fate attenzione festeggiate con cautela non eccedete nell'alcol perché anche limiti familiari sono un problema passate la in allegria mi raccomando poi vorrei farvi una domanda per quei pochi che guardano questo video come si fa quando hai un tablet che registra col microfono e non è un tablet che ci abbia la la linea 3g quindi non posso programmarlo con la programmazione del telefono mettendo i numeri ma come si fa quando senti che il microfono registra però registra soffocato a un livello così basso che praticamente i video registrano solo dei rumori come si fa a riprogrammare il microfono senza andare al servizio tecnico però ecco io non mi vorrei approfittare del fatto che a natale tutti siamo più buoni e più solidari con i problemi della gente per esempio gli disoccupati come me ma visto che ci sto e che bisogna anche farsi valere no perché una cosa è approfittarsi delle circostanze ma un'altra non fare niente per ricavarne qualcosa e quindi vi reitero reitero ancora una volta quante quanti di voi voleste aiutarmi questo natale di guardare tutti i miei video magari al limite youtube non mi dà niente ma io sarò più contento poi non so fate un po voi però mi piacerebbe che voi mi aiutate a guardando tutti i miei video perché li faccio sempre con tanto sforzo adesso ho visto che posso registrare di nuovo perché ho avuto delle problemi io non posso comprarmi una becca camera nuova ho avuto dei problemi a registrare con questa beppe camera perché lo svantaggio è che viene un video al limite di 6 40 per 4 80 un formato brutto con una grana una diciamo un una testura dell'immagine schifosa si sembra che c'è nebbia o borotalco però ripeto registro dal vivo poi certo non posso registrare attraverso youtube che non mi riconosce più la telecamera ma con picasa 3 e poi e carico il video che viene leggerino leggerino quindi non sto a dover usare un editore di video che tarda una ora per dargli un formato più leggero a un video che faccio con un cellulare che dieci minuti sono 200 megabit o 180 o magari come con lascia 302 che registra in formato VGA a 3,2 megapixel che in 15 minuti sono già 250 megabit trasferirlo al computer tarda minuti editarlo con un editore che gli toglie molto peso e quindi gli rovina il formato come vs dc free video editor impiega quasi mezz'ora un'ora caricarlo un'altre 40 minuti invece con la web camera ti fai un video che adesso sto ai 110 megabit e sono 18 minuti che sto registrando più o meno quindi cioè pensa di meno che con il samsung galaxy young 53 60 neanche a parlare di quanto pensa meno che col nokia asha 302 che c'è un formato più grande e forse anche proprio un formato diverso perché il nokia asha mi sembra che registra in 3 gp mentre che il samsung galaxy registrati h 264 devo guardare così ve lo dico subito nokia asha video più sì 3 gpp nokia asha 3 gpp il formato e in 6 40 per 4 80 diamo altre caratteristiche velocità di dati 2048 velocità di bit totali 2144 15 fotogrammi al secondo velocità di bit autio 96 mono velocità di muestra della mostra del del suono 48 quindi è un formato abbastanza alto per essere un cellulare economico invece samsung galaxy young vediamo un po perché nella cartella del galaxy young ho messo tante di quelle foto che che non si apre mai dovrebbe essere dovrebbe essere a volte c'hai tanti archivi nella cartella che è un problema io vi consiglio se avete come me 10.000 foto fatte con una cellulare nel computer di non mettere tutto nella stessa cartella anche le foto di metterle per categoria nuvole paesaggi video perché altrimenti se metti tutto insieme come fa il cellulare nella sua cartella a del galaxy young 53 60 poi poi succede che non ti apre non ti apre gli archivi ecco finalmente il video mp4 del galaxy young 53 60 e registra 320 x 240 768 kilobits velocità di dati velocità di bit totale 860 quindi vi immaginate da 2.000 e passa del nokia asha 302 si è passati al 768 velocità di dati kilobits e velocità di bit totali 860 kilobits per secondo 40 14 fotogrammi al secondo invece che 15 velocità audio di bit 91 velocità del mostrero della mostra del suono 16 cioè tutto molto più ridotto per quello che i video al minuto del galaxy young 53 60 pensano molto di meno del video del nokia asha 302 quindi se voi volete un cellulare che abbia economico una ottima filmatrice più perché la la anche le foto sono buone dovete prendere un nokia asha 302 che adesso non ce l'ho perché glielo regalato a mia madre se le portate ma se voi volete un cellulare minimo che ci abbia molte applicazioni da mettergli anche se non ha una memoria molto grande e piccola dovete prendere un galaxy young 53 60 oppure questo che già che è di mia zia che già l'android e 4.0 non so se 0 1 però non so come si chiama adesso vi lascio perché si ho fatto 138 megabit e basta basta così buon natale mi raccomando guardate tutti i miei video così io rinnovo il mio parco tecnologico ciao del vostro senteggio buon natale a tutti ciao